La leadership del sacerdote consiste nel servire con un amore personale per la gente. Un vescovo o un prete che non sa cosa sia il servizio non è un buon pastore, anche se ha tante altre qualità. È uno dei passaggi più significativi del lungo dialogo che Papa Francesco ha improvvisato ieri, lunedì 12 maggio, con gli alunni dei pontifici collegi e convitti di Roma. I vecchi parroci di Buenos Aires, ha ricordato il Papa, quando ancora non esisteva il cellulare, dormivano con il telefono accanto, ma non moriva nessuno senza sacramenti. Li chiamavano a qualsiasi ora e loro si alzavano e andavano. Ecco la vera leadership del sacerdote. E nell'aula Paolo VI il vescovo di Roma ha risposto per oltre un'ora ad otto domande rivoltegli da seminaristi e sacerdoti che studiano in città. Ne è uscito un vero e proprio identikit del prete per il tempo di oggi, con pregi da ricercare e difetti da evitare.